Si è svolta questa mattina, nella fascia di lago compresa tra l'ingresso del porto di Torbole e la zona antistante della colonia Pavese, la giornata ecologica dedicata alla pulizia dei fondali, organizzata dal centro PA di 5 Stelle, ambiente acqua di Arco, con il patrocinio del comune di Nago Torbole e la partecipazione del corpo dei vigili del fuoco di Nago Torbole. La giornata rientra nell'ambito del progetto Live Your Fine Step, lascia la tua impronta di pinna, ed è stata voluta fortemente dalla stessa amministrazione comunale, preoccupata anche, visto il basso livello che il lago ha raggiunto in quest'ultimo mese, delle emersioni dall'acqua di parecchi rifiuti. Una cinquantina i subacque e i trentini volontari impegnati nelle operazioni. La pulizia è stata concentrata nella zona del bagnasciuga fino ad una profondità massima di 12 metri e l'immondizia raccolta ha raggiunto i tre quintali di peso. Non è la prima volta che vi è infatti un'operazione di questo tipo sul lungolago di Torbole, questa volta però è stata voluta fortemente anche dall'amministrazione comunale. Sicuramente sì, nel senso che io ho partecipato all'indomani delle mie elezioni, ho visto appunto questa associazione che stava operando lì vicino alla Baia Azzurra e ho detto, in questo periodo abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo detto ma perché non invece stendere queste iniziative in più volte, in più anni e in più punti di tutto il lungolago così riusciamo a fare un'operazione di pulizia estesa e a dare un segnale anche ecologico alla comunità. Tanto è vero che la scelta anche di questo periodo, di rifarlo ancora quest'anno e in questo periodo, in una zona come questa del porto e comunque defilata rispetto ai bagnanti abbiamo visto che anche i turisti hanno apprezzato tantissimo, c'era la fila di tedeschi che facevano la foto proprio perché hanno visto che anche il nostro comune anche l'Italia ha una sensibilità ecologica spiccata verso il proprio lago che è una fonte non solo economica ma anche ambientale e quindi insomma ci stava anche questa operazione e penso e credo e spero insomma che visto anche la loro forte attività e anche passione che si ripeta negli anni questo tipo di iniziativa. Donatella Ischia di Ambiente Acqua di Arco è l'organizzatrice dell'evento, cosa è stato ripescato? C'è qualcosa di particolare? Quanto è stato ripescato? Allora quanto non lo sappiamo ancora perché faremo il conteggio alla fine, però abbiamo pescato tantissime bottiglie di birra, di vetro, lattine, un po' di bottiglie di acqua minerale diciamo ci sono sempre, copertoni, pezzi di imbarcazioni, remi eccetera. Ecco come potete vedere due sedie, forse gli oggetti più strani ripescati oggi dal lago. Si possono vedere diverse bottiglie ripescate, questi sono comunque di solito i materiali rifiuti che si trovano nel lago. Vogliamo ricordare è un'iniziativa a costi zero perché questi subacquei sono tutti volontari, fanno parte di diverse associazioni sportive ma comunque tutti volontari. Sì, anzi proprio per questo devo ringraziarli ancora di più proprio perché sono proprio volontari e su nostra richiesta si sono da subito prestati, sono qui veramente in parecchi, quasi una cinquantina che vengono da tutte le parti del Trentino proprio come volontari qui in un posto magnifico però a fare un'operazione che secondo noi è lodevole quindi devo anche ringraziarli e estendere il mio ringraziamento a tutti gli operatori, insomma in primis poi Donatella Ischia che è la coordinatrice e quindi grazie.